Road to 100k crypto portfolio con denaro reale periodicamente ribilanciato episodio numero 18. Ricordo sempre che questo esperimento con denaro reale ricalca le convinzioni tematiche di investimento di Uchain. Cosa rappresenta Road to 100k? Ne abbiamo già fatto menzione in numerosi precedenti episodi. Leggetevi la descrizione in background. L'Inception date è al primo luglio del 2022 pertanto mancano in questo momento 858 giorni considerando un expiration day al 30 giugno del 2025. Quindi abbiamo ancora tanta strada da fare. Il benchmark sul quale si andrà poi a effettuare delle comparazioni di rendimento è stato individuato in un tipico GIC portfolio 80% Bitcoin, 15% Ethereum e 5% CRO. Avviso all'interno del primo episodio qualora foste neofiti viene spiegato dettagliatamente l'obiettivo del crypto portfolio ma soprattutto anche i suoi rischi specifici. Disclaimer ve lo leggete, disclosure uguale, warning tutti i canali Telegram che portano il mio nome oppure usano le mie immagini professionali sono truffe plateali, guardatevi bene da seguire quelle indicazioni. Confirmate le convinzioni di scenario macro enunciate durante l'episodio numero 17. Pertanto andiamo a vedere quelle che sono in questo momento i bilanciamenti. Ricordo sempre che gran parte delle tecniche utilizzate per la costruzione del portafoglio e per l'individuazione delle convinzioni di investimento ricalcano tutto quello che è stato indicato, narrato e descritto all'interno di capitali coraggiosi. Abbiamo avuto uno smobilizzo parziale nei giorni precedenti su Avalanche e in concomitanza un ribilanciamento su Solana. Vediamo come sempre le contabili. Ricordo nonostante vi sia un ampio finestra temporale tra la pubblicazione dei risultati e l'effettuazione delle operazioni che i ribilanciamenti e i relativi trade vengono pubblicati in tempo reale su Twitter. Per cui non appena effetto delle operazioni sul portafoglio, se ho tempo faccio il video, altrimenti pubblico su Twitter attraverso uno specifico format che si chiama Raw 200K Update, che cosa è stato venduto, acquistato, a che prezzo e quali sono anche gli orari di riferimento. Ebbene, come abbiamo detto, sono stati smobilizzati 25 pezzi di Avalanche il 18 febbraio a 18.29. Nel complesso l'operazione ha generato circa un centinaio di euro di loss. Qui possiamo trovare la precedente contabile in cui erano stati acquistati 50 pezzi, vedete, a luglio dello scorso anno a 23 euro. Complessivamente rimangono ancora in carico, pertanto, 25 pezzi. Sono stati invece in parallelo sempre lo stesso giorno, il 18 febbraio, acquistati 25 solana per 21.59, aumentando nel complesso, in questo caso qui, il carico. Andiamo, come sempre, a vedere l'account, il conto, per fare una disamina sulla composizione, il suo andamento e soprattutto che cosa risulta essere in carico in questo momento. Come potete notare, Solana, a fronte anche del nuovo ribilanciamento, è diventato il primo asset per peso strategico e confidiamo che diventerà il principale motore di performance nei prossimi trimestri, semestri. Solana in questo momento è ancora in equity negativa complessivamente rispetto ai prezzi originari di carico. Basterebbe già che si riporti oltre i 30 euro e cominciamo a performare anche su questa posizione. Polygon ormai sta facendo quasi il 100% della propria dotazione. Flow è prossima, a nostro modo di vedere, di partire. Come potete notare, una disponibilità ancora del 10% da essere investita. The Graph, Quant, Band, IMX, Loopring e Filecoin, che sono tutti in equity positiva. Stanno deludendo in questo momento, rispetto alle aspettative, Algorand e Near Protocol, che sono sonnacchiosi per utilizzare un termine fumettistico. In buona sostanza, non stanno in questo momento dimostrando particolare vivacità. Vediamo, come sempre, anche la ripartizione per quantitativi. Come potete notare, sono quasi tutti multipli di 5. Qualcuno mi scrive, ma perché compri sempre multipli di 5 o di 50 o di 250? Perché in questo modo, e questo vale anche per tutti gli altri portafogli che gestisco, avendo una buona memoria fotografica, riesco mentalmente a fare i calcoli, anche se non sono davanti ai portafogli, sapendo che cosa c'è all'interno di quella specifica dotazione. Mi basta fare con grande semplicità un calcolo mentale, sapendo il differenziale che vi è tra il prezzo di carico e il prezzo di mercato. Cosa che sarebbe un po' più complessa, farlo a mente, se cominciate ad avere quantitativi che sono tipo 13, 14,8, 221,7 e così via discorrendo. Infatti vi sono persone che investono invece non per quantità, ma per importi prestabiliti. Ad esempio vado a investire 1.000 euro oggi su quanta e in cambio dicevo che ne so 7,37 quanta. Io preferisco invece partire da un approccio dal punto di vista della gestione contabile che ho posto. Investo in 10 quanta a questo prezzo per un controvalore di 980 euro, di 1.022 euro e non mi interessa perché mentalmente mantengo sempre queste quantità. Come potete vedere ad ogni modo vi è anche una parte del portafoglio che è stata messa in staking. In questo caso si è scelto anche di bypassare il staking in modalità flessibile e portarlo in bonding, quindi sostanzialmente staking vingolato che presuppone tempi di smobilizzo che vanno dai 3 ai 15 giorni. Per quale motivo? Perché per adesso queste 5 dotazioni rimarranno per molto tempo quasi statiche e pertanto non vi è necessità e esigenza di andarli a smobilizzare. Tutti quelli che chiedono ma perché non sposti le dotazioni su wallet nativi? Perché se così si facesse si creerebbero problemi nella gestione poi contabile dell'andamento nel senso che bisogna creare un flusso di raccordo che va a pescare tramite api esterne i rispettivi valori, li aggrega e così via discorrendo. Quindi in questo modo è sempre tutto facilmente riscontrabile e verificabile da tutti. Torniamo sulla parte finale e andiamo a come sempre fare un resume. Siamo in equiti, il portafoglio è ritornato in equiti positiva, c'è ancora un 11% da allocare. Abbiamo effettuato e verificato un primo run up nel 2023 in cui il portafoglio qualche giorno fa si è spinto fino a quasi a un 10% di aumento del controvalore. Sta dimostrando particolare resilienza e soprattutto reattività ai temi di mercato. Avalanche come abbiamo visto è stato smobilizzato e plausibilmente nei prossimi mesi potrebbe anche essere totalmente smobilizzato perché abbiamo iniziato a fare una serie di valutazioni per le quali riteniamo Avalanche non più appropriato per la gestione dell'asset a medio-lungo termine. Attenderemo magari che si sposti ad una quotazione tale da andare a compensare la piccola perdita che abbiamo effettuato e realizzato con lo smobilizzo parziale. Ci sarà un tatticismo come abbiamo già spiegato sull'upring e Filecoin per cui più avanti potrebbero essere smobilizzati per incassare la plusvalenza e come prossimi ingressi abbiamo potenzialmente Covalent, Render, Token e Anchor. Non so quando ci sarà il prossimo ingresso, dipenderà anche dalle varie condizioni di mercato. Ad ogni modo ricordatevi che tutti gli update prima di essere pubblicati attraverso il relativo episodio saranno anche resi pubblicamente disponibili tramite un specifico format su Twitter. Ci vediamo qui al prossimo episodio. Grazie. Grazie.